Sono nate le gemelle di Veronica Peparini e Andreas Müller, il papà diventa papà per la prima volta, una grande gioia per lui, ma non da meno anche per Veronica. Bellissime, possiamo vederle subito e trovare già le somiglianze con i genitori. Andreas scrive, sono in lacrime e senza parole, ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora. Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco. Ricorderete che sono stati mesi di apprezzione in quanto le gemelle hanno avuto dei problemi, in particolare si trattava di vasi sanguigni comunicanti per cui una bimba era donatrice dell'altra e questa situazione poteva portare a gradi rischi. Tutto è andato per il meglio e posso dire ma che bello vedere i loro visini meravigliosi, molti VIP scelgono di non farli vedere in volto, ma noi apprezziamo tanto tutta questa genuinità e voglia di farle conoscere al mondo. E allora benvenute Penelope e Ginevra, tanti auguri ai genitori. Grazie per la visione!